Aspettative disattese, Biancazzurri senza ritmo e gioco. Dopo la cinquina al Potenza nessuna conferma sul campo della Cenerentola Andrea, solo uno 0-0, soprattutto un vistoso passo indietro. Non aver preso gol per la terza gara di fila, una magra consolazione. Di fronte infatti c'era il peggiore attacco del campionato con 18 reti, di cui appena tre realizzate nelle ultime 12 partite. Il Pescara ha giocato male, ammetterlo non è reato, in più senza ritmo. È stato un ruminare calcio e quando giochi così alla lunga diventa complicato vincere contro chiunque. Nel primo tempo il noto limite ha il cospetto di avversari che chiudono tutti gli spazi, ovvero l'incapacità di trovare le giuste contrarie, il solito giropalla lento e improduttivo. L'Andrea ha fatto il suo creando densità a metà campo. Con le mezze ali Salandria e Candellori ha aggredito quasi a uomo Giabua e Craia. Sotto tono Merola e Raffià. In questi casi per supplire, avere uno spartito, un'idea ti aiuta e invece nulla di tutto ciò. Nella ripresa invece i pugliesi hanno preso coraggio e alzato il baricentro procurando più di un brivido, ma davanti le lacune della squadra di Trocini sono piuttosto evidenti. Dal canto suo il Pescara non ha mai impegnato il portiere avversario Savini, di fatto inoperoso. I biancazzurri fanno fatica a creare occasioni e di conseguenza a segnare. A digiuno di gol in sei delle ultime nove gare contro Picerno, Avellino, Crotone, Foggia, Monterosi e appunto Andrea. Così stando le cose il debordante 5-0 rifilato al Potenza a un fuoco di paglia, Di certo l'attesa conferma non è arrivata, di qui la motivata delusione e la consapevolezza che oggi il bicchiere va visto mezzo vuoto.